Ciao a tutti vediamo come installare le shader su minecraft con le mod attive è un'operazione diversa rispetto ad avere solo le shader quindi spiego un attimo allora forge è per le mod l'optifine è per giocare in vanilla minecraft quindi senza mod ma con le shader quello che vogliamo fare noi è avere forge ma con la optifine attiva quindi la prima cosa che dovete fare è, partiamo dall'ultima versione, è installare forge se state chiedendo le shader con le mod, presumo abbiate già le mod, presumo quindi abbiate già forge se non ce l'avete vi metto sotto il link su come installare forge ma brevemente vi basta scrivere forge download andate qua, scaricate l'installer quando l'avete scaricato andate sui vari download lo aprite, fate ok vi parte l'installazione automatica avete finito, dovete solo poi rilanciare l'installer quindi così velocemente una volta che abbiamo fatto questo fate partire la versione di forge ok, fate gioca in modo che si crea la cartella mods una volta fatto questo andiamo sempre su google scriviamo optifine più il numero della versione su cui state giocando andate qua la scaricate perfetto e poi scarichiamo anche uno shader pack in questo caso ho messo sildurs vibrant shaders vi metto tutto sotto in descrizione andate qua scaricate quella che vi interessa in base alle prestazioni del vostro pc e siete a posto adesso dovremmo avere nella cartella download a parte forge dovremmo avere la optifine e le shader che io però ho già messo su minecraft perciò poi vi faccio vedere non è un problema allora avete la optifine quello che vogliamo andare a fare è metterle nella cartella mods ci possiamo arrivare in tanti modi da qua velocemente ci basta fare percento updata percento imparate la memoria questo perché vi servirà spesso eccoci qua siamo in roaming cartella.minecraft eccoci qua e adesso andiamo su mods bingo qua vedete che io ho già una mod quindi prendo la optifine e la sposto la differenza è che quando noi installiamo solo la optifine sulla vanilla la vanilla facciamo doppio clic sulla optifine installa qua invece la buttiamo dentro come una mod benissimo adesso quello che dovete fare se avete la cartella shader pack trascinate dentro vedete che io qua l'ho già trascinato il file che abbiamo scaricato della shader se non ce l'avete non preoccupatevi lanciate minecraft con forge eccoci qua adesso dovremmo aprire option video settings shaders benissimo aprite shaders folder ed ecco qua lo stesso folder in cui siamo arrivati prima trascinate copiate incollate fate quello che dovete con la shader che avete scaricato chiudiamo chiudiamo qua andiamo in un mondo io riprendo il mio solito e aspettiamo il caricamento e come potete ben vedere ho qua le shader e in più se faccio e guardate qua ho anche la mia mod computer craft con tutti i blocchi che sono stati aggiunti benissimo quindi ecco come installare le mod e le shaders insieme era una cosa abbastanza ostica ma adesso lo sapete fare per qualsiasi altra domanda relativa a minecraft mod server e quant'altro lasciate sotto un commento io vi ringrazio e alla prossima ciao ciao ciao